Ciao, sono Kiko di B00 e in questo video vi spiegherò come creare ed utilizzare un modulo per il nuovo Java 9. Il video riguardante le altre modifiche su Java 9 è disponibile nell'angolo in alto a destra. Innanzitutto bisogna creare un file contenente le informazioni sul modulo stesso, come il nome univoco, su quali altri moduli dipende e quali package sono pubblici. Questo file è chiamato module-info.java e viene creato all'interno della cartella chiamata come il modulo. Durante questo video, quello che andremo a creare si chiamerà Kiko di B00.calcolatrice e si servirà per eseguire alcuni semplici calcoli come l'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione. Apriamo Eclipse, creiamo un nuovo progetto chiamato Kiko di B00.calcolatrice e selezioniamo la spunta Use a Project Specific JRE e nel menu a tendina a fianco selezioniamo JDK-9, infine clicchiamo su Finish. Per creare il file contenente le informazioni sul modulo, clicchiamo col tasso destro sul progetto, clicchiamo su Configure e in seguito su create module-info.java. A fianco al module name scriviamo Kiko di B00.calcolatrice e premiamo Invio. Andiamo a modificare il file module-info.java aggiungendoci la dicitura export Kiko di B00.calcolatrice. In questo modo stiamo comunicando agli altri moduli che il package Kiko di B00.calcolatrice è disponibile a tutti. Prima di descrivere le altre istruzioni andiamo a creare il package Kiko di B00.calcolatrice e al suo interno una classe chiamata Calcoli. I metodi che ho aggiunto sono sullo schermo. Per spiegare le altre funzionalità avremo bisogno di creare un altro modulo che si interfaccia con quello appena creato. Adesso si chiamerà Kiko di B00.calcolatrice.plus e aggiungerà un'altra funzione come quella di elevare un numero a potenza. Quindi rieseguiamo tutte le operazioni per creare un modulo fino a questo punto. Quindi creiamo un nuovo progetto chiamato Kiko di B00.calcolatrice.plus, tasso S sul progetto, Configure, create module-info.java. Quindi andiamo a creare il package chiamato appunto Kiko di B00.calcolatrice.plus. Creiamo la classe Calcoli.plus che conterrà appunto il metodo necessario per eseguire l'elevazione a potenza con il metodo presente sullo schermo. Ma durante la scrittura ci avrà fatto notare come il metodo moltiplicazione non sia presente nel package. Quindi dobbiamo dire agli altri moduli che ho bisogno del modulo Kiko di B00.calcolatrice per funzionare. Quindi andiamo a modificare il file module-info.java di quest'ultimo aggiungendo requires Kiko di B00.calcolatrice. In questo modo stiamo appunto dichiarando il fatto che per essere eseguito abbiamo bisogno del modulo Kiko di B00.calcolatrice. Ma appena scritto ci verrà detto che il modulo non è stato trovato. Quindi clicchiamo col tasso d'essere sul progetto corrente. Corriamo il menu a tendine e selezioniamo Properties. Nella finestra che compare selezioniamo dalla lista a sinistra l'opzione che dice Java Build Path. Andiamo nel tab Project e assicurandoci che la voce Module Path sia selezionata clicchiamo sul pulsante ad. Ci verrà mostrato una finestra contenente i vari progetti. Nel mio caso mostrerà Kiko di B00.calcolatrice e test Java. Mettiamo la sponda su Kiko di B00.calcolatrice e clicchiamo su OK. Se il video ti ha aiutato a capire l'argomento lascia un mi piace, altrimenti lascia un non mi piace. In ogni caso puoi sempre commentare per aiutarmi a migliorare i video futuri.